E ancora venivano un po' questi fatti. Se voi mi date la possibilità e mi date il via, signori, io incomincio, do l'ordine affinché vi portino le cibarie. Così si usava in quell'epoca, nel 1700, così riproponiamo noi. Solo che diciamo che le cibarie le abbiamo fatte da poco, non sono quelle del 1700. Quindi potete stare tranquilli, potete così rilassarvi un po', vi offriremo anche un pochino di vinello molto buono insieme alle cibarie del nostro sponsor, che è un ristoratore molto particolare, che si chiama Cozzo del Cuoco, ed è nel territorio di San Pietro, in Guarano, località Cozzo del Cuoco, che ci porta sempre, in queste nostre manifestazioni, degli assaggi di varie pietanze che lui fa. E quindi comincerete un po' a distrarvi. Dopo vi intratterrò con un piccolo gioco, un piccolo gioco in cui parteciperete tutti quanti, dove c'è la possibilità di vincere anche dei biglietti, omaggio per le prossime puntate della nostra rassegna, fatti di cronaca nera. Vi ringrazio. Sono due minuti e incominciamo. Ecco qua.